Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, al nord, tempo uggioso con deboli piogge. Al centro, soleggiato ma con nubi sparse. Al sud, schiarite alternate a nubi sparse. In serata, al nord, tempo uggioso con deboli piogge. Al centro, bel tempo ma con qualche foschia. Al sud, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani, al mattino, al nord, tempo uggioso con deboli piogge. Al centro schiarite alternate nubi sparse, al sud schiarite alternate nubi sparse, nel pomeriggio al nord tempo uggioso con deboli piogge, al centro schiarite alternate nubi sparse, al sud schiarite alternate nubi sparse.